Attenzione please, adesso la fenomena è diventata anche chitarrista, dai, dai canta dai Lasciatemi cantare, felicità, sì ma fai vedere, non fai il fenomeno, fai vedere qualcosa Sì, accordati, mettiti la corda al collo, va, forse sarà sulle azioni migliori Quindi, cos'è sta roba? Ma cos'è? Stai facendo a caso, che roba è? Ma quale è a caso? Ma cosa stai facendo? Dai, no, mi rifiuto, ragazzi Ma dai, io, cosa stai facendo? Lo sto accordando Stai facendo l'accordo bilaterale con Luzza? Vedi che è scordata, questa è scordata, vedi? Sì, insomma ti sei scordato il tuo nome e la chitarra da tante anni fa Dai, pavero!